Gentili telespettatori ben trovati dallo stadio Giovanni Bruccoleri di Favara per questo big match del campionato di eccellenza Girone A tra la squadra di casa, la Pro Favara e il Mussomeli. Le due squadre appaiate in classifica al terzo posto con 39 punti, entrambe con una gara ancora da recuperare. Si affrontano con queste formazioni. La Pro Favara con Rizzuto, Costanza, Grova, Ballacchino, Romeo, Cambiano, Leone, Fanara, Cordaro, Lococo e Riccobono. In panchina Mr. Gaetano Longo porta il secondo portiere Bizzi e poi Luparello, Giuseppe Cusumano, Antonio Cusumano, Lauria e Chico. Il Mussomeli risponde con Randazzo, Corso, Scro, Costantino, Genuardi, Casisa, Morello, Giannola, Spoto, Guastella e Mercurio. Luce Sapia, allenatore del Mussomeli, fa sedere accanto a sé il secondo portiere Spano e poi Nola, Calì, Mangiapane, Musar, Atia e Corbetto. Arbitrerà l'incontro il signor Emanuele Frascaro di Firenze, assistito dalle bandierine di Acireale, Giuseppe Lucifora e Salvatore Maccarrone. Tutto è pronto con il fischietto toscano che in questo istante dà l'inizio alle ostilità, a liberare della difesa e attenzione, il tiro di Spoto non termina lontano dalla porta di Rizzuto. Con Leone sulla destra, Cordaro, Cordaro, prova Cordaro, in mezzo Costantino, ancora Leone, il tiro di Leone controlla, anzi tocca la palla Randazzo in calcio d'angolo. Calcio di punizione per la squadra ospite, prova adesso la Profavara a venire avanti, Riccobono per Leone, 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 si fa spazio Leone, il tiro e c'è il calcio di punizione Profavara, fuori area dice l'arbitro, calcio di punizione per la squadra di casa. C'è Cordaro sul pallone, c'è Riccobono, vediamo Cordaro, il tiro, batti e ribatti, va a finire sulla barriera, nulla di fatto. Calcio di punizione, Riccobono sul pallone, in mezzo il colpo di testa, attenzione! Guastella, il tiro di Guastella termina lontano dalla porta, difesa da Rizzuto. Tutto è pronto per i secondi 45 minuti, il signor Frascaro dà il via alle ostilità di questo secondo tempo. Calcio di punizione subito per la Profavara, Cordaro finisce a terra, parte Fanara, il tiro di Fanara! Arandasso c'è, palla fuori, Cordaro, ottimo Cordaro su Costantino, Cordaro, 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 entra in area Cordaro, il tiro di Cordaro! C'è in due tempi e sulla linea, Costantino! Guastella sul pallone, mette in mezzo Guastella, il tentativo viene neutralizzato dalla difesa della Profavara. Attenzione, esce Randazzo, attenzione lì la Profavara con Leone, si divora un gol la Profavara. In avanti ancora la Profavara, attenzione, il colpo di testa termina fuori, altra occasione Profavara. Cordaro, Cordaro, in mezzo c'è Genuardi che interrompe, altra occasione per la Profavara. In avanti la Profavara, Cordaro, Cordaro è lì, supera l'avversario diretto, Cordaro mette in mezzo, attenzione, il colpo di testa! E c'è il miracolo di Randazzo! Calcio di punizione, parte Lococo, il tiro, la deviazione, c'è il calcio d'angolo per la Profavara. Fischia l'arbitro, parte Riccobono, in mezzo il pallone, il colpo di testa! Termina alto, ma c'era il fuorigioco, dice l'arbitro. E finisce in questo momento la gara tra Profavara e Mussomeli. Una Profavara che per intensità di gioco, per mole di occasioni e per tutto quello che abbiamo visto, avrebbe anche meritato qualcosa in più del pareggio, però alla fine il Mussomeli si è difeso con ordine, ha subito gli attacchi e le occasionissime almeno un paio da parte della Profavara, ma alla fine la stretta di mano tra i 22 contendenti che lasciano il campo soddisfatti e consapevoli di aver dato una bella dimostrazione di calcio e con l'applauso del pubblico di Favara ad entrambe le formazioni. Profavara 0, Mussomeli 0, un saluto da Rino Pitanza e Gianluca Canzolida che vi hanno raccontato questa bellissima gara dal Giovanni Bruccoleri di Favara.